Che cosa si intende con medicina estetica non invasiva? La medicina estetica non invasiva non è altro che una branca della medicina estetica la quale grazie all'uso di tecnologie medicali combinate a specifiche manualità si occupa di migliorare un aspetto fisico del nostro corpo. L'azione di queste tecniche sfrutta le capacità fisiologiche del corpo per riprodurre o modificare determinate strutture, nello specifico si agisce a livello dell'epidermide, del derma e dell'ipoderma. Rispetto alla medicina estetica classica non vi è l'uso di aghi, bisturi e i trattamenti si svolgono in ambulatorio. Negli ultimi anni questo settore della medicina estetica è in forte crescita, infatti sempre più pazienti, uomini e donne richiedono delle soluzioni non invasive proprio per evitare terapie dolorose, interventi da sala operatoria, eventuali complicazioni post intervento e anche i tempi di recupero. Oggi grazie all'avanzare delle tecnologie riusciamo a dare una risposta efficace e duratura nel tempo senza invadere i tessuti o snaturare i lineamenti. In particolare sul viso possiamo andare a trattare rughe, rughette e pelli per esempio acneiche o anche pelli particolarmente disidratate. A livello del corpo invece possiamo intervenire a succedimenti del tessuto post gravidanza o anche dopo un dimagrimento importante. Possiamo anche intervenire su cicatrici e smagliature ma anche su adiposità localizzate e cellulite. Quali strumenti abbiamo a disposizione per contrastare gli inestetismi della pelle? Le tecnologie che consiglio per migliorare l'aspetto della pelle sono AIFU e radiofrequenza. L'AIFU è un acronimo che sta per ultrasuoni focalizzati ad alta intensità ed è consigliato per una pelle con cedimenti più importanti e delle rughe profonde. È un'ottima alternativa al lifting chirurgico. Il medical device è dotato di un manipolo privo di aghi che viene posizionato su tutte le zone del viso, del collo o della parte del corpo di interesse e sfrutta gli ultrasuoni per rigenerare le fibre di collagene richiamando acido ialuronico ed elastina. Agisce in profondità ripristinando l'ancoraggio del derma al muscolo, riempendo e liftando la pelle. È un trattamento importante che si completa con 4 sedute nell'arco di 6-7 mesi e ogni trattamento dura circa un'ora. I primi risultati sono apprezzabili circa dopo 20-30 giorni dopo la prima seduta e una volta completato il ciclo si consigliano circa 2 sedute di mantenimento all'anno. Nel caso di una pelle meno segnata dal tempo, dove vogliamo agire su rughette di espressione, disidratazione e ipotono, si consigliano trattamenti manuali in combinazione alla radiofrequenza. La radiofrequenza è una tecnologia molto più diffusa rispetto alla prima che sfrutta il principio della diatermia. Questa tecnologia medicale è dotata di un manipolo che passa nelle zone di interesse stimolando il microcircolo. Ciò aumenta la produzione da parte dei fibroblasti, di collagene, acido ialuronico ed elastina. Il trattamento dura circa mezz'ora, è molto rilassante ed è consigliato a partire da una volta a settimana. Entrambe le soluzioni non hanno particolari controindicazioni. Se non gravidanza e allattamento, neoplasia in atto e presenza di protesi metalliche nelle zone trattate. Il mio consiglio è quello di abbinare sempre ai trattamenti con medical device dei trattamenti manuali e sfoglianti in particolare, ad esempio, il peeling. Ma ancora di più consiglio una curata skin care routine domiciliare con utilizzi di prodotti specifici per il tipo di pelle trattato. Ricordo che per prevenire un invecchiamento precoce della pelle è fondamentale una buona idratazione e una costante detersione, mentre è sconsigliata un'eccessiva esposizione solare al fumo e agli agenti inquinanti. Quali soluzioni abbiamo per migliorare l'aspetto del nostro corpo? Per il corpo, in base al tipo di inestetismo che viene valutato dal terapista, si può agire su smagliature e cedimenti del tessuto con AIFU e radiofrequenza, mentre per le adiposità localizzate o cellulite con la cavitazione combinata alla radiofrequenza. Quest'ultima viene impiegata per il dimagrimento di addome, fianchi, cosce, glutei e braccia. La cavitazione, nello specifico, rompe e svuota le cellule di adipe che poi vengono assorbite ed espulse dal corpo grazie al sistema venolinfatico, mentre la radiofrequenza migliora la pelle donando un aspetto tonico e luminoso. Il motivo per cui combiniamo le due tecnologie è per evitare l'effetto di un tessuto svuotato che spesso si presenta dopo un dimagrimento importante, ma anche per migliorare l'aspetto della pelle che in presenza di adiposità localizzate o cellulite è caratterizzata da un aspetto grigiastro e disidratato. Questo avviene proprio per un deficit circolatorio, a causa dello strato di adipe che comprime i vasi sanguigni a livello dell'ipoderma. Una seduta di cavitazione e radiofrequenza ha una durata variabile in base alla parte del corpo da trattare. In media dura circa 30 minuti. Non è assolutamente doloroso come trattamento e non lascia lividi o segni. L'effetto è immediato, ovvero fin da subito dopo la prima seduta è possibile apprezzare un cambiamento della consistenza del tessuto. Ad ogni modo il mio consiglio è di effettuare sempre un ciclo minimo di 5 sedute che si possono effettuare una volta alla settimana. La resa migliore di questo tipo di trattamento si ha se alla cavitazione si abbina uno stile di vita sano, con quindi un'alimentazione e sport adeguati. Inoltre consiglio di appinare a fine trattamento un messaggio drenante. Nello specifico, il messaggio drenante per eccellenza è l'infodrenaggio metodo Vodder, che ha un'azione disintossicante e drenante, con un effetto benefico da un punto di vista estetico e salutare. Eseguito subito dopo una cavitazione, velocizza il processo di smaltimento donando una sensazione di leggerezza. Grazie per la visione!